Ciao ragazzi, io sono Luca e questo è Drink Corner, lo show in cui ogni settimana parliamo di come preparare, migliorare e servire i nostri drink. Oggi, in attesa dell'estate, Sex on the Beach. Oggi prepareremo il Sex on the Beach e c'è stato richiesto da Alessio e Sam su Facebook. Il Sex on the Beach è un drink che va servito in un eyeball, eyeball che riempiremo di ghiaccio quasi fino all'ora, in questo modo. Ripugniamolo in modo tale che non ci dia fastidio. La tecnica che utilizzeremo per prepararlo è quella del vino, la stessa che abbiamo utilizzato per il negrone. E l'occorrente per prepararlo è il seguente. Vodka, liquore alla pesca, succo d'arancia, succo di mirtillo rosso o cranberry e per guarnirlo, arancia. Così come prevede la tecnica del milk, andremo a versare gli ingredienti all'interno dello stesso bicchiere. Quindi riprendiamo il nostro eyeball e lo priviamo dell'acqua che potrebbe essersi formata al suo interno. Fatto questo, andremo a versare gli ingredienti all'interno dell'acqua. Ingredienti che verseremo a partire dalla vodka in una quantità di un once e mezzo, quindi un bubble six, in questo modo. Bubble two, three, four, five, six. Seguirà poi il liquore alla pesca che verseremo in una quantità di tre quarti d'arancia, quindi un bubble three, in questo modo. Bubble two, three. Dopodiché verseremo un once e mezzo di succo d'arancio. E un once e mezzo di cranberry, di succo di cranberry. Guarderemo il tutto con un mischetto d'arancia. Perfetto. Il nostro Sex on the Beach è pronto. Questo conclude la puntata di oggi. Se vuoi conoscere altre varianti del Sex on the Beach, faccelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale YouTube. E ricordati di seguirli su Facebook, Twitter oppure sul nostro sito internet dreamcorner.it. Io sono Luca e questo è Dream Corner. Ci rivediamo giovedì alle 18. Grazie a tutti. Grazie a tutti